Ciao Elia, ciao Andrea, nome Elia Osama Bin Laden, Andrea, sesso, si, maschio, non come Elia, no, ok, misura tette preferita, mille, terza, pilota preferito centottani, ricci, Elia Marisciutti, una notte di sesso con Piggyn, dici la posizione che preferiresti, fra lui e la Jenny, io sopra lui sotto, il segreto di Leo Ratto, il Daytona e il tubo, che è un idraulico, ergas, droga che usi quotidianamente, centottani, le dimensioni contano? Le contiamo noi, abbastanza, hai capelli o pensi di averli? Penso di averli, devo controllare un giorno di questi, penso di averli, Zanetti è bello? Ma con quella giacca verde neanche tanto, Elia è bello? Anche troppo, la Caritas ti sponsorizza? No, io ci ho provato, ma è andato lo sponsor a lui, Annal o Fisting? Fisting, Annal, fai un urlo, Saluti tutti quanti a casa, ciao a tutti!